Ogni emozione, ogni esperienza che attraversi nella tua vita, è, dopo tutto, opera tua. Se solo potessi essere consapevole del fatto che comunque è opera tua, sicuramente sceglieresti il modo più dolce di essere. La devozione non è solo il modo più dolce di essere, è anche la forma più elevata di intelligenza. Ma le persone che affermano di essere devote, di solito sono un branco di idioti. Quindi le persone che pensano di essere intelligenti si sforzano sempre di stare lontano da qualsiasi forma di devozione. Devozione significa, devozione non significa andare al tempio, alla moschea o in chiesa e fare una forma particolare di rituale. Devozione significa semplicemente che nella tua vita, in qualunque momento della tua vita, quando sei consapevole che c'è qualcosa di più grande di te che sta funzionando intorno a te, non c'è altro modo, sarai devoto. Quando sei sopraffatto, se sei abbastanza sensibile, se sei abbastanza intelligente, se sei abbastanza sensibile da vedere che qualcosa di molto più grande di te è costantemente in funzione, allora sei naturalmente un devoto. Non c'è altro modo di essere. Potresti non inchinarti, potresti non eseguire un rituale, potresti non stare seduto in un tempio, potresti non fare nessuna delle cose standard che uno si aspetta. Potresti non essere vestito come un devoto, forse i tuoi vestiti non sono stampati con il nome di Dio. Forse non hai mai pronunciato il nome di Dio nella tua bocca, ma se sei consapevole, se sei cosciente che qualcosa di molto più grande di te è in funzione in questo momento, sei naturalmente un devoto, non c'è altro modo di essere. Quando sei ossessionato dal potere dei tuoi muscoli o dal potere della tua mente o dalle piccole sciocchezze che puoi fare e pensi che sia tutto, solo allora non sei un devoto. In quella condizione non puoi essere un devoto. Quando pensi di essere tutto non puoi essere un devoto. quando vedi la realtà della vita, che sei solo un piccolo avvenimento qui e che qualcosa di molto più grande di te è sempre in funzione. Se sei consapevole di questo, se questa è una realtà viva per te, sei sempre un devoto. Non l'ho mai detto prima. Esito a dirlo perché la voce si spargerà e rovinerà la mia reputazione. che sono un devoto. Oh, andiamo, Sadhguru, tu un devoto? Sei arrogante. Ci vuole molto. Ci vuole molto per sembrare arroganti. Che tipo di devoto sei? Oh, devi essere un devoto di Shiva. Shiva è il mio partner. Questo sarà molto difficile da digerire per te. Io sono devoto a te. Che tu lo capisca o no. È molto difficile capire questo. Devozione non significa che mi devo inchinare davanti a te o toccare i tuoi piedi o cantare le tue lodi. In ogni modo, io vivo per te. Questa è devozione. Ho scelto questa stessa nascita per far sì che questo accadesse per te. E questa è devozione. quando tieni il benessere di qualcuno al di sopra del tuo. questa è devozione. Ciò che un devoto fa con assoluta facilità è molte altre persone lo fanno con grande fatica. Solo per tenere da parte questa personcina. Quanti sforzi. Quanti sforzi. vite intere di sforzi. Stare sulla testa. Trattenere il respiro. Andare. Strisciare per terra e ogni tipo di cose. La devozione è solo un modo semplice dolce e bello di tenerti semplicemente da parte.